Questa è l'ottava illuminazione. Ti spiego. Dice che invece di rubarci l'energia vicenda, dobbiamo darla in ogni momento e a chiunque. Come fa padre Sanchez adesso? Guardalo, John. Osservalo bene. Dare energia è un processo. Quando dai energia a qualcuno, il suo viso si illumina e vorresti fosse sempre così radioso. In ogni situazione, se la tua energia fluisce in una persona, ti senti in quel modo. Come? In quel modo? Sulla montagna. Quando ti sei aperto, come ti sentivi? Avevo una sensazione di pienezza, di appartenenza. Provavo un'enorme euforia. Stai parlando di amore. Esatto. Dare è il segreto per mantenere il contatto. Perché l'energia, il tuo amore, cresce dentro di te mentre si trasmette agli altri. È quello che han sempre fatto i santi. E anche tu dovresti farlo. nessuno più cheiederà. Bene. Dio è il segreto. Per me, un film di amore. Ma sai. Per me, un film di amore. E anche tu vuoi. E anche tu vuoi amore.